Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Questa sera torniamo nuovamente a parlare di politica e lo facciamo nuovamente con un leader nazionale perché è venuto a trovarci nei nostri studi il leader di i moderati Maurizio Lupi. Buonasera Lupi. Buonasera, buonasera a tutti. Peraltro lei è di casa qui, è abruzzese, di origini, è spesso presente in questa campagna elettorale, non è la prima volta anche dall'inizio della stessa che lei segue un po' l'attività molto da vicino dei suoi candidati, segno che noi moderati punta ad un buon risultato su questa prova elettorale che la vede nella coalizione a sostegno di Marco Marsilio. Come sta andando questa campagna elettorale, Lupi? Con grande entusiasmo, devo dire che la proposta politica di noi moderati, la nostra lista sta riscuotendo grande successo perché ritorna un po' a rimettere al centro della politica la ragione per cui in tempi diversi ognuno di noi si è messo a disposizione della propria comunità. Serietà, competenza, passione, gratuità. Tanti amici candidati nelle quattro province che si sono rimessi in gioco, che si sono riavvicinati, che credono che alla fine la politica con la P maiuscola è quella che alla fine deve tornare a mettersi al servizio della propria regione. Poi per me, come ha detto, c'è un motivo particolare in più, non solo credo fortemente alla lista noi moderati, ma credo che qui in Abruzzo possa avere un grande successo. I miei genitori nel 1953 sono immigrati da Fossaccesi a Milano, mio papà e mia mamma, uno operario muratore, l'altro operario all'Alemagna, e mi hanno educato a quei valori che fanno parte di questa terra, che sono il sacrificio, la passione, anche l'ostinazione, siamo teste dure. Io credo che in politica servano queste cose. Lei conosce quindi molto bene il nostro territorio, diceva di candidature che sono radicate anche con le comunità locali. Peraltro c'è anche nelle file di noi moderati una consigliera regionale uscente, quindi siete nuovi anche all'approccio con Palazzo dell'emiciclo. Quali sono le aspettative e soprattutto che tipo di elettorato intendete possa essere più avvicinabile da parte dell'offerta politica di noi moderati in una coalizione così ampia, così come quella di Marsiglio? Intanto c'è un principio fondamentale che dovrebbe essere quello che riguarda non solo la comunità, la regione Abruzzo, ma tutto il nostro paese. Hai governato per cinque anni, se hai fatto bene ti ricandidi e i cittadini decidono se andare a casa o se continuare a governare. E quindi dal nostro punto di vista sostenere la candidatura di Marsiglio ha questo ruolo, ha governato bene, ha riportato l'Abruzzo, lo dice un milanese abruzzese che da 30 anni è a Roma, anche al centro delle politiche nazionali. L'Abruzzo è ritornato ad essere, come è giusto che sia, una regione che ha il diritto e il dovere di essere protagonista. Ricordo gli anni della democrazia cristiana, se l'Abruzzo ha le infrastrutture che ha oggi è grazie a quell'attenzione che grandi politici avevano in una regione fondamentale, il collegamento tra l'Adriatico e il Tirreno. E questo secondo me è un elemento importante della politica. Rimettiti in gioco, fatti giudicare dei cittadini e alla fine succederà una cosa secondo me molto bella che per la prima volta ci sarà una continuità amministrativa. Marsiglio e il centro-est sono convinto che governeranno per dieci anni. L'altra invece è che la novità di questi cinque anni dovrebbe essere il contributo che i moderati possono dare, perché noi dobbiamo costruire l'Abruzzo del futuro. Io ricordo quando ero ministro delle infrastrutture, a proposito di Fossa Cesia, un'opportunità che c'era e qui vuol dire che la politica deve tornare ad avere coraggio, responsabilità, ad assumersi le scelte. C'era da cedere un sedime ferroviario, se lo ricordano tutti. La ferrovia doveva arretrare. E quindi mi ricordo che allora il presidente della provincia di Chieti mi chiamò per dire che le ferrovie volevano 20 milioni di euro per cedere quel sedime ferroviario e per poi la provincia realizzare una pista ciclabile. Allora, presi in mano il telefono, chiamai l'allora amministratore delegato delle ferrovie e gli feci una domanda molto semplice. Mi scusi, ma chi è l'azionista delle ferrovie dello Stato? Silenzio, mi risponde, è lo Stato. Bene. E lei si può permettere di chiedere 20 milioni alla provincia, cioè a un territorio, per ristituire un sedime ferroviario e per riqualificarlo? Lo dia gratuitamente. Abbiamo finanziato la pista ciclabile. Credo che oggi sia sotto gli occhi... C'è partito il giro d'Italia. Esatto. Che cosa è quell'eccellenza? È un esempio. Dalla sanità, le infrastrutture, ci sono le grandi sfide che abbiamo davanti. Noi moderati, con i nostri candidati, noi abbiamo l'obiettivo non di prendere i voti agli altri, ma di ritornare a far appassionare quei cittadini che anche in Abruzzo si sono allontanati nella stensione o che pensano che la politica sia solo gestire il potere o farsi i fatti propri. Voi, dal punto di vista della coalizione, le ha detto, abbiamo un'identità ben precisa. In questo, quali sono i temi di campagna elettorale su cui sarete più presenti, sarete più, diciamo, anche nei successivi cinque anni, se dovessere vincere nuovamente Marsiglio, impegnati in un'azione di governo? Ma, innanzitutto, l'ho detto anche ieri al Presidente Marsiglio, eravamo insieme ad Atri alla presentazione della campagna elettorale di un nostro candidato. Anche lì abbiamo persone veramente qualificate e competenti, Umberto Italiani, e il tema vero è la sfida della sanità. Perché io credo che in Abruzzo, come dalle altre parti, questo tema della lista d'attese o questa mobilità, che non è turistica, ma per farsi curare uno si sposta da una regione all'altra, lo dice chi vive a Milano, sia una cosa non degna per una regione come l'Abruzzo, ma per un paese come l'Italia. È stato fatto tanto dal Presidente Marsiglio nella sanità, però oggi l'obiettivo è quello di ridurre le liste d'attesa. A livello nazionale abbiamo messo a disposizione 3 miliardi di euro perché questo accada, e credo che questo sia doveroso e in questi 5 anni sulla sanità si deve fare tanto e dobbiamo metterselo come obiettivo. E poi per me e per noi c'è un grande tema, che è quello che si chiama alleanza scuola-lavoro. Noi dobbiamo ritornare a mettere al centro, e anche qui Marsiglio ha già dato dei segnali importanti, penso agli ITS, quindi agli istituti tecnici professionali superiori, questo tema che non è l'alternanza tra scuola e lavoro, ma una forte alleanza tra la formazione, l'educazione, la scuola e il mondo del lavoro. La dignità, questa è sempre stata la nostra battaglia, è avere un lavoro e un lavoro dignitoso, non l'elemosina di un'assistenza. Ed è per questo che noi dobbiamo, su questo tema, anche qui in Abruzzo, valorizzando le eccellenze che sono i distretti industriali che ci sono. La Valle del Sangro è una delle cose che ovviamente appartiene un po' alla storia da cui io vengo, quella valle meravigliosa, è stata negli anni anche protagonista di insediamenti industriali di eccellenza. Penso al distretto industriale del Terramano, ecco, ci sono delle eccellenze industriali, ci sono delle eccellenze di qualità inogastronomica, pensiamo al turismo, cioè si può lavorare tutti insieme perché nei prossimi cinque anni la sfida di un Abruzzo, sempre più a fianco dei propri cittadini, può essere sera fatta con Marsilio Presidente. E a proposito di Valle del Sangro, oggi tutta l'Europa è di fronte alle sfide competitive sull'automotive nella transizione energetica. Ecco, qual è il futuro e soprattutto quali sono le strategie industriali che il Paese ma anche la Regione deve sostenere in questa fase così delicata in cui ci sono anche grandi preoccupazioni per i lavoratori? Ma ci sono due settori che tra l'altro colpiscono l'Abruzzo che dicono esattamente come non bisogna gestire la transizione ecologica. Allora, sviluppo e difesa dell'ambiente e qualità della vita devono andare pari passo a proposito dei moderati, non c'è lo scontro. Quello dell'automobile e quello dell'agricoltura. L'abbiamo visto nel senso che le proteste degli agricoltori, io ho parlato l'altro giorno a proposito di una fabbia, un giovane agricoltore di Mozzagronia e mi ha spiegato la ragione di quella protesta. Innanzitutto nel riscoprire, tra l'altro per l'Abruzzo questo è uno dei temi più importanti, il valore dell'agricoltura. Ma dall'altro non puoi teorizzare in Europa che una stalla inquina di più, tra l'altro parliamo dell'intelligenza artificiale, degli investimenti che si stanno nelle tecnologie. È un assurdo o di una fabbrica? E tu non puoi pensare che la rotazione dei terreni, l'uso dei fitofarmaci, cioè tutto deve essere sostenibile, perché se non hai più da mangiare, cosa te ne fai di una qualità dell'ambiente? Dobbiamo lavorare insieme. La stessa cosa vale ovviamente per l'automotive. Occorre una transizione. Tra l'altro chi ha detto che solo l'elettrico è lo strumento per non inquinare? C'è una ricerca avanzatissima, tra l'altro l'ENI su questo è all'avanguardia in Italia, sui biocarburanti, sul tema del motore che può non inquinare, eccetera. Io credo che se lo sviluppo è sostenibile, e deve essere sostenibile, ricordatevi che le rivoluzioni avvengono sempre in tutto il mondo, nella storia, perché manca il pane. Cioè se tu non dai la qualità della vita ad una persona e non gli dai una prospettiva di futuro, puoi dirgli tutte le cose, ma va contro la qualità della vita. E a proposito di rivoluzioni e di marce, che ne pensa di quella di De Luca a sostegno di un approccio diverso per l'autonomia differenziata? Tema che pure questo l'ambisce un po' anche la campagna elettorale abruzzese. Beh, l'esempio di De Luca esattamente ci permette di dire cosa siamo noi moderati. Lì, prima che dalla politica c'è un problema di educazione. Se rappresenti le istituzioni, non puoi usare quel linguaggio. Perché sempre alzare i toni solo per prendere un voto in più? Governi, di che cosa vuoi fare? L'autonomia differenziata può essere un'opportunità. Io lo dico, ma il sud di questo paese, in tutti questi ultimi 30-40 anni, non c'era l'autonomia differenziata. È cresciuto o ha aumentato il proprio divario? Se è aumentato il proprio divario, come mi sembra, e De Luca intanto impari l'educazione ed usa un linguaggio diverso, è presidente di una regione importante, rappresenta le istituzioni, e poi faccia le sue proposte alternative. Vada in giro, appunto, nelle periferie della sua regione campagna, dica come è possibile rivalorizzare un tessuto territoriale importante che va dalla campagna alla Puglia, al sud. E non demonizziamo sempre la possibilità di cambiare. Perché i cambiamenti sono fondamentali. O noi affrontiamo le sfide nuove che la storia ci pone davanti, o saremo travolti dalla storia. E allora è un tentativo responsabile. Quindi De Luca ha fatto la sua fortuna, non si capisce se è De Luca o Crozza, ma non importa. Io tra l'altro lo conosco bene De Luca perché è stato mio sottosegretario quando ero ministro. Ha una forza, una capacità che gli va detta, però ricordiamoci sempre che la gente ci guarda, in particolare i giovani. E poi non facciamo le lezioni sui giovani quando noi stessi ci comportiamo in un modo esattamente diverso, noi adulti. Ma diciamo nel computo dei pro e dei contro di questo progetto dell'autonomia differenziata, per esempio per una regione come l'Abruzzo che è un po' di cerniera, qual è il saldo a suo avviso, quali sono le opportunità e quali sono i pericoli? Ma il saldo secondo me può essere solo attivo, anche perché l'autonomia differenziata parte da un principio che come noi moderati, e per la mia formazione culturale e politica è fondamentale. Qual è l'ente più vicino al cittadino? Il comune. Qual è l'ente più vicino al cittadino? La regione. Chi meglio conosce e può gestire i problemi, la risposta ai bisogni, l'utilizzo nel miglior modo delle risorse. Certamente, secondo un principio che si chiama sussidiarietà, colui che sta più vicino al cittadino, chi conosce di più i problemi. Allora, autonomia differenziata vuol dire devo garantire a tutta Italia le stesse prestazioni, parolaccia, si chiamano LEP, livelli essenziali di prestazioni, ma dall'altra permettere ad ogni regione, ad ogni territorio, di utilizzare al meglio le proprie risorse. Ce le abbiamo come esempio, ma settimana scorsa, credo l'avete seguito con molta attenzione anche voi, è venuta la Presidente del Consiglio, Meloni, a firmare una serie di accordi fondamentali, tante risorse che sono messe a disposizione anche di questa regione. La regione Abruzzo ha una conformazione territoriale particolare e che è la sua forza, che è il mare, la collina, la montagna, territori che sono diversi da dove abito io a Milano. Milano ha un'area molto piccola con una concentrazione di abitanti enorme. Qui ha i comuni che poi hanno atri, piuttosto che fosse accesa, che hanno territori diversi e allora non li puoi trattare allo stesso modo. Devi, per esempio, la sfida delle infrastrutture, che non è solo la realizzazione della terza corsia, come ieri ha ridetto Marsiglio, come ha detto la Presidente Meloni, oppure una cosa vergognosa, facciamo finalmente la Pescara-Roma. Io da ministro mi sono sempre battuto su questo, purtroppo sono passati dieci anni, ma c'è un grande tema, per esempio, della digitalizzazione, delle infrastrutture digitali, che tanto più in una regione come questa si sentono, perché il comune montano devi dargli lo stesso diritto di Pescara, di poter usufruire delle innovazioni tecnologiche. Cosa è successo quando c'è stato il Covid? Voi l'avete seguito, io ho presente, quante storie avete raccontato di persone che dovevano essere collegate o di ragazzi con le dad e magari in un comune non arrivava il segnale. Ma noi possiamo tollerare questo, quindi c'è una grande opportunità per le risorse che ci sono messe a disposizione. Si chiama appunto un'altra parolaccia, P-N-R-R. Sono tutte le robe che poi a poco la volta noi impariamo a conoscere, ma la sfida vera è quella di realizzarle e di spenderle bene. E devo dire che Marsiglio su questo è sulla buona strada, ma noi moderati possiamo dare questo contributo, perché occorrono persone innanzitutto competenti, serie, ma appassionate della propria comunità. La politica deve tornare a rappresentare i propri territori, deve ripartire dalle bisogni e dalle domande che incontri ogni giorno. Lupi, siamo quasi in conclusione. Già passato il tempo. No, io voglio rimanere tutto il tempo. Facciamo un grande epico. Facciamo una riflessione importante, però, prima di... Non che le precedenti non lo fossero, ma questa credo che sia più... No, soprattutto per demerito mio. Da fare insieme ai nostri lettori e lettori telespettatori, perché siamo a tre settimane dal voto. In Abruzzo si è sempre detto che c'è una sorta di miracolo, dicevamo prima a microfoni spenti, di due coalizioni che sono... La scelta è chiara, ci sono due modelli, però ci sono tanti altri e questo credo che sia un tema molto a cuore rispetto a voi moderati, anche e soprattutto nell'area di centro che non si sentono rappresentati dalla politica. Il dato dell'astenzionismo è elevato, lo è stato anche nelle ultime elezioni regionali, cinque anni fa. Ecco, come convincere, soprattutto, ripeto, i tanti orfani di un'area politica, culturale, che in Abruzzo è stata prevalente per tanti anni, a ritrovare fiducia nella politica? Questo è il vostro lavoro. Ma intanto ci si convince in un solo modo, basta pensare alle nostre storie. Quando tu vedi qualcosa di buono, qualcosa di positivo, quando tu vedi qualcuno che ci mette la faccia, che si rimette in gioco, io sempre per le tradizioni da cui vengo, l'educazione, qui in Abruzzo ci sono le grandi feste paesane, no? E la gara che c'è sempre, almeno così era da me, a Mozzagrogna, a Fossacesia, da quelle parti, era quella di chi aveva, il più fortunato, che aveva il balcone nel centro, no? E che cosa si faceva? Se si vedevi su quel balcone, la gente faceva lo struscio, avanti, indietro, e poi tu che cosa facevi? Guardavi, dici, oh, guarda quello, si è comprato la pelliccia, quell'altro, hai visto? Stai insieme a quell'altro, cioè il mondo reale era sotto, e tu eri su quel balcone, perché eri fortunato, e continuavi a giudicare, ecco, noi deviamo scendere da quel balcone, basta fare la teoria del centro, basta dire che i cittadini non capiscono la politica, che vanno nella stensione, rimettiamoci in gioco, con libertà, con gratuità, noi moderati è questa grande opportunità, è l'idea di una tradizione, i nostri valori, la famiglia, le libertà, la sussidiarietà, lo Stato al servizio dell'impresa, una comunità, il bene comune, che è una parolaccia, che non dice, sembra che non dica più nessuno, ma che guardi, che lavori per il presente, per guardare al futuro, della nostalgia, a proposito, un'altra bellissima canzone, lontane chi lontane, Della nostalgia, non serve, se quei valori non ci permettono oggi di diventare protagonisti, per questo, noi ci rivolgiamo esattamente a quelle persone, e devo dire che, io credo che noi moderati sarà una sorpresa, in Molise, alle scorse elezioni regionali, nessuno ci dava, ci davano zero, abbiamo preso il 7% e due consiglieri regionali, ma perché, in politica, non si scende mai per l'esito, mai, c'è bisogno sempre, del coraggio, di mettersi in gioco, di metterci la propria faccia, i nostri candidati, e le nostre candidate, ce la stanno mettendo, per poi dire, noi ci siamo, quindi, non rifugiarti dell'astensionismo, hai una possibilità, di ridare forza al centro, cioè a quel pilastro, che permette sempre di governare, e a me piace molto, e concludo, questa cosa di cui dicevamo prima, fuori, perché, anche l'altro, l'avversario, non è il nemico, il male assoluto, è qualcuno, che ha valori diversi dai tuoi, un programma diverso dal tuo, che vuole concorrere, come te, a migliorare, la vita della tua comunità, in questo caso, della regione, e quindi, l'alternanza, fa bene alla democrazia, a proposito dell'attualità, l'opposizione, è sempre un elemento fondamentale, perché, per chi governa, io ho governato, so che ti fa bene, ti rimette in gioco, quindi, questo confronto, anche bello, so che avete fatto, un confronto, molto bello, tra, il presidente Marsilio, e il suo candidato, del centro-sinistra, l'avversario, fa bene alla democrazia, fa bene alle istituzioni, però noi vogliamo vincere, perché crediamo, che il nostro progetto, sia migliore dell'altro, e perché crediamo, che in questi cinque anni, abbiamo dimostrato, finalmente, che se ci dai fiducia, possiamo governare bene, possiamo aver fatto delle cose, non tutte molto bene, miglioreremo, ma questa è la strada, che abbiamo davanti, e credo che questo, sia un bel segnale, che arrivi dall'Abruzzo, spero anche, per tutta Italia, abbiamo delle competizioni, fondamentali, anche l'europea, insomma, siete, anche lì, insomma, mi aspetto molto, dall'Abruzzo, non so se avete visto, all'europea, noi moderati, ma davvero, sfiderete la soglia di sbarramento? Beh, intanto voglio solo dire così, tanto per togliermi un sassolino, che quando nel 2014, ci siamo presentati, abbiamo preso il 4,2%, cioè, Fratelli d'Italia, non superò, lo sbarramento, e noi lo superammo, ma non è questo, noi ci saremo perché abbiamo, dobbiamo dare forza all'elezione europea, al partito popolare, anche in Italia, e la sfida dell'europea è fondamentale, ci saremo con il nostro simbolo, con i nostri candidati, con la mia faccia, in discusa, che i leader, secondo me, si devono candidare, Giorgio Meloni, è l'unico ufficiale al momento, nel centro dell'europea, anche Giorgio Meloni, vedrà che si candidata, lo dirà, lo dirà, vogliamo, vogliamo, vogliamo costruire, un partito popolare forte, quindi, è chiaro che l'interlocuzione, anche con Forza Italia c'è, ma ricordo sempre, a Forza Italia, che, la somma dei voti di Forza Italia, oggi, ha il 6,5% nei sondaggi nazionali, 6,5% sette, noi abbiamo, il 2% nei sondaggi nazionali, fa il 9%, ma ce lo ricordiamo, quando i moderati, il centro, prendeva il 40%, poi qui in Abruzzo, abbiamo sempre preso tantissimo, allora c'è un compito che abbiamo, io mi auguro di lavorare insieme, ma se no, come ho detto prima, comunque noi, la nostra faccia ce la mettiamo, la schiena dritta ce l'abbiamo, poi, le origini abruzzesi, di chi ha fondato questo partito, ci sono, e quindi, andiamo avanti. Grazie, grazie. No, grazie a voi, e complimenti, il fatto poi mi ricorda, non il fatto quotidiano, non il giornale, ma una grande trasmissione, di un grande giornalista, e quindi, che è un po' più nelle sue cose. Eh beh sì. Grazie, arrivederci, arrivederci, buona serata.